andiamo allora a fare una glasa alla frutta con lampone utilizzando la fruit peptin scaldiamo la nostra acqua a 40 gradi a questo punto che una buona temperatura per aggiungere la pectina sempre con cinque parte di zucchero a modo tale di scioglierla bene portiamo tutto a pulizione e versiamo la nostra base in un bowl mescolando con una spatola di goma si aggiunge la pureà di lampone fino a bere una base regolare per ultimo utilizziamo zucco del limone come acido per attivare la nostra pectina miscolando bene piano piano per ultimo con un cucchiaio togliamo tutte le impurezze della superficie un po di policola sempre a contatto con la nostra pectina e lasciamo riposare un minimo una sera in frigorifero dopo questa sera si scioglie a 35 e pronto per l'utilizzazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti